Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio sulla A1 in direzione Roma per traffico congestionato 6 km di coda tra Aglio e Calenzano per un incidente 5 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello mentre sulla variante di Valico per traffico intenso 1 km di coda tra Firenzuola e Aglio. Sulla A12 per traffico intenso rallentamenti tra Massa e il Bivio per il raccordo Lucca-Viareggio in direzione Livorno. La viabilità cittadina a Firenze inizieranno domani i lavori per la realizzazione della pista ciclabile in via Baracca con restringimento di carreggiata tra il viadotto dell'Indiano e via Pistoiese. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!